io guarda per approfondire io sono qui io faccio pass ah no aspetta quando faccio pass qui si dovevo uscire qui vedi guarda qui posso anche qui funziona o no? no non funziona allora devo chiedere così funziona? però presa non era abbastanza profonda vieni qui ancora una volta vieni, hop! presa, hop! esco basta uscire uscire bene, fuori e dicque, chiudere dai vai piano e e si prima daval da una parte poi daval vai 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 ancora molto più profonda Fai, fai, solo che è molto più profondo dentro. Oh, adesso chiude. Ah, cazzo, sì. Adesso la camera, lo stesso. Ah, qua. Prima cintura. Chiude cintura, anche se io controllo le gambe. Non fai cintura così, basta che qua tieni bene, invece tutto l'altro deve essere immobile. Controllo anche mia schiena, vedi che io non mi... Oh, super, questo mi piace. E adesso fai piano. Da una parte e dall'altra. Questa cosa devi fare con un movimento. Aspetta, vieni qua, vieni qua. Un movimento. Vai, uno. Hop, ancora. No, 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 fai un movimento e basta. Un movimento, wow, dai. Hop, ancora molto più profondo. Capito? No, no, no. Devi entrare, perché sei troppo rigido. Vieni, lascia stare i ginocchi. Guarda. Guarda. Prima. Vedi, sono qui. Che faccio? Hop. Attacko. Uscito. Attacko. Uscito. Attacko. Vedi, da un ginocchio in l'altra. Guarda. Hop. Qui. Vedi? Hop. Qui. Capito? Ne. Sono qui. Qui un po'. Sì, devi prendere un pochettino. Perché non è così facile. E avanti. Vai, sinistra e destra. Però fai piano. Non fai... E vedi cosa devi fare con il mio corpo per arrivare molto più profondo. Ancora. Vedi qui un pochettino. Vedi se hai conflitto le mie braccia. Spingi con il ginocchio mi abbracci qui, vedi? Si ho controllo così. Tu devi spingi con il ginocchio mi abbracci. Spingi. Hop. Vai, 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 vai. Ancora molto. O, vedi adesso? Ancora più. Spingi. Bene, se hai toccato da se, vedi? Gomito ancora più dentro. Oh. Puggi. Puggi fai. Rekka. Sì. Cintura ne mani. Passa dall'altra part. Hop. Molto più profondo qui. Oh, bravo. Fai piano. Piano perché funziona. Sì. Molto più profondo. Puoi andare un pochettino anche laterale. Passa dall'altra cintura, altro angolo. Fai, 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 fai. Più profondo, più profondo. Ancora molto più profondo. Insulisci ancora, ancora. Oh. Rekka. Questo devi fare. Capito? Si. Adesso è sempre toccato. Adesso è un'altra presa. Cambiamo. Quale è la presa? Quella delle gambe? No. Tu hai fatto solo così. Adesso fai così. Hop. Provo, provo. Chiuso. Dall'altra parte subito. Hop. Cambia un pochettino questo spigone. Hop. Entrato? No. Che no. Prova a fare uno, due. Fai uno, due. Esce da una parte e non va dall'altra. Subito dall'altra. Si. Dai, fai, fai quindici volte. Avanti no, dai. Uno, due. Dai, fai, no, fai senza, senza l'occhio. Uno, uno. Dall'altra parte. Dai. Due. Dai, dai, dai. Tre. Quattro. Quale è il movimento? Cinque. Un movimento. Sei. Vedi come devono lavorare i muscoli? Sette. Vai, vai, vai. Trafonda bene qui. Con questa gamba spingi. Con questo braccio spingi, spingi. Spingi dentro. Ero.